Bene, un caro benvenuto a voi tutti. Cominciamo questo momento di presentazioni, di letture che il meeting ha fatto proprio e intende condividere. Bene, abbiamo due proposte oggi e la prima è il libro edito dalla San Paolo di Vincenzo Bertolone, padre Pino Puglisi, profeta e martire, beato. Abbiamo qui con noi due ospiti di eccezione, uno è l'autore che salutiamo, Sua Eccellenza l'Arcivescolo di Catanzaro, Vincenzo Bertolone. Che ringraziamo molto per aver proprio ricavato un momento per raggiungerci e subito dopo dovrà ripartire per i suoi numerosi impegni. E come correlatore, anche persona amica del meeting, Sua Eccellenza Michele Pennisi, da poco arcivesco di Monreale. Siamo in compagnia sia di un presente potente che ci può guidare, cioè il beato Pino Puglisi, oltre i due ospiti di un gruppo di amici siciliani nati e cresciuti nella stessa terra seppur in punti diversi. Prima di lasciare a loro il racconto, perché sono state anche persone che hanno conosciuto Don Pino e la riflessione che ne nasce dalla sua vita, dalla sua testimonianza, dal suo martirio che la Chiesa ha appunto riconosciuto proprio per la fede, in odio alla fede. Volevo connettere questo momento con il tema che in questi giorni ci siamo dati e anche con il messaggio del Santo Padre Papa Francesco, quando ci ha detto pochi giorni fa la necessità è il tema della testimonianza, o la fede c'è o la fede non c'è, c'è bisogno di testimoni. E anche quando ha detto che il potere, che tende sempre, qualsiasi potere, qualsiasi forma aggregata di uomini che anziché cercare ancora la verità, cercano sostanzialmente il mantenimento delle proprie possibilità, cioè del proprio potere, inizia a impensierirsi, inizia a diventare più cattivo e influente quando nota che qualcosa inizia a dialogare con qualcosa d'altro, quando l'uomo inizia a essere legato a qualcosa che lo definisce nel profondo, che si attacca, che si aggancia direttamente al suo desiderio, al suo bisogno di vita profondo. Nella prefazione del Cardinale Romeo, arcivescovo di Palermo, la leggo perché lo dice molto bene, mette in luce proprio questo, questo aspetto per cui anche la figura di Don Puglisi viene spesso raccontata naturalmente dalla mentalità di cui siamo fatti, quindi viene tradotta con gli schemi e il filtro di qualcosa che quasi non decidiamo, o di cui non ci chiediamo ragione, e cioè quasi come uno sforzo etico, quasi come un essere contro qualcosa che non era giusto, contro la mafia, contro i poteri occulti o disseminati e conosciuti. E il padre Cardinale Romeo dice La testimonianza di Puglisi non è più l'utilizzo di categorie presenti nella società civile, ma attraverso categorie e linguaggi propri, cioè con esplicita intenzionalità di fede, mediante parole essenziali nell'orizzonte cristiano, come peccato, giudizio di Dio, conversione e infine martirio. Cioè tutto lo sforzo degli uomini di buona volontà trova il vertice dentro quel punto di gratuità per cui Don Pino è stato riconosciuto come scomodo, perché aveva incollato le persone, i ragazzi, i giovani, a qualcosa di diverso, che non apparteneva a quella societas, a quel modo di vivere, ma che è poi il modo quieto anche di sopravvivere. E questo è il punto decisivo anche del libro che Vincenzo Bertolone ha accettato di scrivere su richiesta della San Paolo Editore. Io do anzitutto la parola a Michele Su'Eccellenza Pennisi, che lo ha conosciuto e che anche lui vive la sua testimonianza di vescovo nelle varie città della Sicilia, oltre che anche responsabilità nella Chiesa nazionale. Grazie. Buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo parlare della mia conoscenza personale con Don Pino Puglisi. Ho conosciuto Don Pino Puglisi quando io ero rettore del seminario vescovile di Caltagirone e direttore dell'ufficio diocesano vocazioni, mentre Don Pino era direttore dell'ufficio regionale delle vocazioni. Egli mi invitò una volta a tenere una conferenza, un incontro per tutti i responsabili regionali su questo tema, la cresima sacramento delle vocazioni cristiane. Ecco, voglio iniziare da lontano perché spesso si pensa che Puglisi sia diventato santo solo negli ultimi anni. Ecco, la santità di Puglisi, che è una santità ordinaria, vissuta in modo straordinario, inizia dal suo essere sacerdote. Quindi questo interesse per le vocazioni, questo interesse per promuovere le vocazioni di ogni cristiano, la vocazione alla santità. Poi ho avuto modo di approfondire con lui questa amicizia nel 1984 perché, ecco, quasi per un anno, ogni sabato, ho cenato con lui. Mi legavo a Palermo per coordinare l'area culturale del convegno delle chiese di Sicilia e ho avuto modo appunto di approfondire con lui l'amicizia. Quando è stato ucciso, io sono rimasto sconvolto. È stato l'indomani mattina che il telegiornale, perché è stato ucciso la sera del 15 settembre, ecco, io sono rimasto sconvolto. Non credevo prima ai miei occhi, perché lo conoscevo come un sacerdote coraggioso, ma anche molto mite, col sorriso sulle labbra. E allora prima mi sono informato e poi, ecco, ho ritrovato adesso da qualche tempo il telegramma che io mandai proprio il 16 settembre al Cardinale Pappalardo. Voglio leggere, ecco, che delinea l'immagine che avevo di lui già l'indomani della morte. Scrivevo, unito in preghiera, partecipa al dolore della chiesa di Palermo per il vili assassino di padre Giuseppe Puglisi, amico carissimo, annunciatore, mite e coraggioso del Vangelo, perla del clero palermitano, sperando che il suo sacrificio contribuisca all'incremento delle vocazioni ecclesiali, alla diffusione dell'amore, della civiltà dell'amore e alla sconfitta della barbarie mafiosa. Quel giorno stesso il telegiornale diceva che c'erano varie piste, una delle piste che venivano seguite era quello che era stato ucciso da un balordo, da un tossicodipendente per una rapina, perché, come risulta dagli atti del processo, diciamo, giudiziario ma anche da quello canonico, la mafia aveva paura di far capire che era stata la mafia ucciderlo e allora aveva simulato questa falsa rapina per ucciderlo. E veramente, allora, io devo ringraziare veramente Monsignor Vincenzo Bertolone, ecco, perché è stato uno zelante appassionato postulatore, cioè colui che ha curato la causa nella tappa finale, perché la causa per la beatificazione per martirio si era bloccata, perché, ecco, la Commissione dei Cardinali dei Vescovi voleva sapere se si trattava veramente di martirio in odio alla fede oppure se si trattava di uno dei tanti preti antimafia che si opponeva alla mafia più per motivi civili che per motivi ecclesiali. E quindi, invece, Monsignor Vincenzo Bertolone, ecco, ha ricostruito in questa opera, anche in un'opera precedente, con amore e impegno, le opere del Ministero Sacerdotale di Dompino Puglisi, parroco di Brancaccio. È un libro che non si limita a raccontare la storia di Dompino, ma è arricchito da profonde venature spirituali, da riflessioni bibliche, da riflessioni teologiche, sul senso del martirio, sul senso della lotta fra il bene e il male, sul ministero sacerdotale, sulla importanza del perdono per un cristiano. Ed è interessante come questo libro ci indica, appunto, il beato Puglisi come martire e come profeta. Volevo innanzitutto insistere su questa parola, beato. La parola beato ci fa dire che la santità coincide con la felicità, anche se è una felicità che si ottiene attraverso il sacrificio, e con il caso del martirio attraverso la morte. Quindi è beato, felice, ha realizzato se stesso attraverso tutta una vita sacerdotale, il cui epilogo è stato il martirio. Il libro si articola in vari capitoli. Innanzitutto si parla dell'attualità del martirio, nell'eterna lotta fra il bene e il male. E poi c'è una lunga trattazione che tratta del rapporto Chiesa-mafia. Ecco, certamente la Chiesa ha trovato all'inizio difficoltà ad elaborare una risposta alla mafia. E anche quando l'ha fatto, all'inizio si è messa al livello dell'etica civile, del comune rimando alla giustizia, alla condanna della violenza che stanno alla base di una società ordinata. Ma non emergeva l'originalità del messaggio cristiano. In realtà, in seguito ad alcuni eventi, il discorso soprattutto di Giovanni Paolo II ad Agrigento e poi il martirio di Puglisi, ecco, la Chiesa ha incominciato a capire, a prendere una chiara, esplicita, ferma convinzione dell'incompatibilità tra l'appartenenza mafiosa con la professione di fede cristiana. In quanto il mafioso, in forza della sua appartenenza alla cosca dedita al crimine, si pone oggettivamente fuori dalla comunione ecclesiale. Ricordo una volta il Cardinal Pappalardo che disse ecco, la mafia si presenta come l'anticorpo mistico di Cristo o un anticorpo mistico di Cristo. E quindi è stato fondamentale, è stato fondamentale, diciamo, e lo mette in evidenza il libro di Monsignor Bertolone, mettere in evidenza l'originalità, ecco, dell'opposizione alla mafia che deriva dal Vangelo e dal messaggio cristiano. Ecco, viene spiegato il contesto storico in cui è maturato il martirio di Don Puglisi. Qual è stato il contesto storico? Nel 1992 ci sono state le varie stragi che hanno portato alla morte dei magistrati Falcone e Borsellino, ma già c'erano state anche altre stragi di poliziotti, di giudici precedentemente. E' 1993. E' il 9 maggio c'è il discorso di Giovanni Paolo II ad Agrigento, in cui invita i mafiosi a convertirsi ecco, perché un giorno arriverà il giudizio di Dio. Quindi un discorso religioso, ecco, di invito alla conversione con la categoria del giudizio di Dio. Ecco, alcuni mesi dopo, nel mese in estate, ci sono stati alcuni attentati ad alcune chiese, a San Giovanni il Laterano, che è la sede della cattedrale del Papa, e a San Giorgio il Belabro. E non sono stati a caso. La mafia, in quel momento, ha incominciato a capire come con la Chiesa non poteva più scendere a patti. La Chiesa era un nemico, un nemico potente, per cui aveva paura di attaccarla frontalmente, però voleva dare dei segnali. E il terzo segnale è stato dato con l'uccisione, e quel giorno del suo compleanno, di Dompino Puglisi. Un'uccisione che ha cercato di mascherare, perché, come si dice nel libro, è stata usata una pistola di basso calibro che solitamente non si usava negli omicidi mafiosi. Gli è stato tolto il borsello, gli è stato detto che è una rapina, proprio per mascherare, ma questo risulta poi dagli atti giudiziari. In realtà, questo omicidio è scaturito in odio alla fede. Perché? Dompuglisi, col suo ministero sacerdotale, di catechesi, di educazione dei bambini, di aggregazione delle famiglie, costituiva nel quartiere una, diciamo, contraltare, tra virgolette, alla mafia, la mafia che dominava quel quartiere. E allora i mafiosi del quartiere Brancacci, i Graviano, hanno capito che bisognava, prima hanno dato dei segnali forti e poi hanno capito che bisognava eliminarlo. Ecco, nel libro vengono presentate le virtù teologali, cardinali, i consigli evangelici, l'umiltà, l'amitezza di Don Pino Puglisi, ma il martirio viene presentato come una conseguenza non ricercata di un'umile volontà quotidiana di seguire il Signore, senza spettacolarità o protagonismo. Erano gli anni in cui a Palermo c'erano anche dei preti antimafia, preti con la scorta, preti che partecipavano a trasmissioni televisive. Ecco, Don Pino non partecipava a trasmissioni televisive, non aveva la scorta, non l'aveva neanche chiesta, però era un prete che con l'educazione dei giovani toglieva la mafia l'erba sotto i piedi, il terreno sotto i piedi. E quindi, ecco, la mafia l'ho ucciso perché la logica della mafia era incompatibile con quella del Vangelo. Ecco, allora viene presentato come un prete. Ecco, il suo martirio è stato in quanto prete, questo è stato determinante per riprendere la causa di beatificazione che rischiava di arenarsi. Ecco, mi pare importante quello che disse anche il mio predecessore nella sede di Monreale, Monsignor Naro. Ecco, disse che quello che aveva fatto l'aveva fatto per realizzare un indirizzo pastorale voluto e incoraggiato dal suo vescovo e condiviso da altri sacerdoti. spesso si è detto che la Chiesa l'ha abbandonato. Io in quegli anni frequentavo molto il Cardinale Pappalardo, posso dirvi che il Cardinale Pappalardo aveva veramente un legame molto profondo con Don Pino e Don Pino aveva un legame molto profondo col Cardinale Pappalardo. Mi pare interessante quello che scrisse Gianni Bacetebozzo che viene riportato Don Puglisi non è stato ucciso per ammonimento o per rappresentanza, è stato ucciso perché era lui e perché quel faceva, è stato ucciso perché prete cattolico, perché sacerdote di Cristo e in questa morte noi leggiamo la morte di un prete per il suo ministero. Quindi mi pare che allora la testimonianza di Don Puglisi e con il suo coraggio sia una testimonianza profetica perché indica alla Chiesa e quando parlo di Chiesa non mi riferisco soltanto ai sacerdoti ma ogni cristiano una via la via evangelica ecco di testimoniare Cristo di seguire Cristo che comporta anche il rifiuto del male e quindi il rifiuto della mafia del rifiuto della mafia come una forma pratica di ateismo ecco Don Pino diceva noi abbiamo un padre nostro per questo ecco ha intestato il suo cento al padre nostro non abbiamo bisogno di padrini e questo per la mafia ecco dire questo in quell'ambiente significava in qualche modo delegittimare i fratelli Graviano delegittimare la mafia è interessante come nel verbale degli interrogatori dei suoi uccisori ecco risulta come colpendo Don Pino si voleva colpire la Chiesa si voleva colpire un prete scomodo che ecco invece di di fare limitarsi soltanto a fare le processioni magari facendolo gestire al comitato in cui c'erano i mafiosi invece educava alla fede educava il Vangelo a un certo punto un mafioso dice questo prete predicava tutta giornata cioè predicava tutto il giorno questo dava fastidio e poi mi sembra interessante anche in diciamo in questo libro il fatto che si insista sul perdono ecco perché Don Pino voleva parlare con i mafiosi voleva che si confrontassero con lui ecco Don Pino ecco quando un momento prima che venisse ucciso ha detto me l'aspettavo ed è morto col sorriso sulle labbra un sorriso che significa perdono ma significa anche speranza significa ecco che ecco il cristiano il prete che crede che l'amore di Dio è più forte della morte sa che alla fine l'amore di Dio è vincitore ecco possiamo ripetere per Don Pino ecco se il gradello di grano caduto in terra non muore rimane solo se invece muore produce molto frutto il processo di beatificazione la beatificazione che c'è stata lo scorso maggio ecco ci indica veramente Don Pino Puglisi come un profeta come un profeta quindi noi lo possiamo annoverare fra i profeti quindi questa sua morte così tragica così dolorosa è un seme insuperabile di vitalità ecco possiamo dire ecco che Don Pino Puglisi con ecco il suo esempio con tutta la sua vita sacerdotale è stato un maestro di umanità ecco il tema del mitig e l'uomo è stato veramente un maestro d'umanità ma il santo non è altro che un uomo completo uno il quale ha capito che il fine della sua vita è il desiderio di Dio e seguire Cristo e lo fa con tutte le sue forze e vorrei concludere dicendo Monsignor Naro insisteva dicendo che la migliore diciamo il migliore contrasto alla mafia è la santità ecco Don Pino Puglisi ecco attraverso la sua vita santa è stato colui non solo che ha combattuto la mafia ma che è un segno di speranza non solo per i siciliani ma per tutti i credenti grazie grazie a sua eccellenza Pennisi per la precisa e appassionata riflessione non avevamo mai sentito almeno personalmente correlati quei mesi dal discorso di Giovanni Paolo II del 9 maggio ad Agrigento così vibrato forse qualcuno lo ricorda e gli eventi successivi fino alla alla singolarità di questo uomo perché l'uomo è una cosa piccola però è tutto tant'è vero che come dire la violenza come anche negli anni del terrorismo quello più intelligente è sempre rivolto al singolo perché la la vera risorsa è la persona adesso chiediamo a Vincenzo sull'eccellenza Bertolone di proseguire la sua riflessione su lui che ha scritto questo libro citando Camus colui che scrive non sarà mai l'altezza di colui che muore in questo atteggiamento di grande umidità appassionata ma come il suo volto descrive da subito vogliamo ascoltarlo grazie l'aria l'aria condizionata mi ha fatto abbassare la voce quindi dovete contentarvi di una voce che non è la mia innanzitutto ringrazio CL e il meeting per avermi invitato per avere voluto presentare questo volume ma soprattutto la figura di Lompino che anche a sé brevemente con passione Sua Eccellenza Monsignor Pennisi già vi ha offerto io mi ero preparato un pensiero collocantolo incorniciandolo nel tema del mitico di quest'anno l'incontro inaugurale del meeting 2013 ha vagheggiato un futuro in cui realizzando i sogni dei primi europeisti il nostro continente dall'Atlantico agli Urali diventi davvero un nuovo mondo dove si globalizza non solo l'economia la finanza la produzione ma soprattutto un nuovo umanesimo anche se a nessuno sfugge che il cammino è ancora lungo e pieno di ciò che viene definito emergenze il che non vuol dire che dobbiamo lasciarci prendere dallo sconforto della rassegnazione ma ispirandoci al Beato Puglisi attivarci fare qualcosa e subito il poco di tutti se condiviso diventa molto se qualcuno se ognuno di noi fa qualcosa insieme possiamo fare molto io l'ho tradotto così il poco di tutti se condiviso diventa molto passando dai fatti miei ai fatti nostri viene di pensare a quando scriveva Don Lorenzo Milani in lettera ad una professoressa ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio sortirne insieme è la politica sortirne da soli è l'avarizia d'altronde come crisi può rappresentare l'occasione lo stimolo per iniziare la risalita così emergere può indicare venire fuori nel nostro caso da una situazione di stallo l'essere umano del resto emerge dalla confluenza di due mondi il cosmo bioastronomico con le sue leggi e i suoi ritmi è il cosmo divino che si manifesta nel bisogno di scegliere e pensare amare e fare desiderare e realizzare in una parola di esistere l'uomo dunque è cittadino di questi due mondi in ogni caso deve superare gli ostacoli che gli si frappongono possiamo pure chiamarli emergenze ovvero ripeto ostacoli dell'inglese handicap quello che conti averli individuati per trovare i rimedi giusti ed efficaci per batterli vediamole allora in più prospettive ma brevissimamente sul piano dei rapporti tra gli stati persiste un clima di avere propria guerra a causa di molti e cruciali motivi di frizione basta pensare in questo momento al Medio Oriente e così nonostante la buona volontà non di tutti per la verità i conflitti persistono e con essi le guerre tra comunità nazionali tra etnie tra nazioni che si ritengono lese sul piano della biosfera tra il 2007 e il 2008 il nostro Presidente della Repubblica definì tragedia ed emergenza l'annoso problema dei rifiuti divenuto drammatico nelle regioni meridionali ha di tanto il rischio tipico di una cattiva gestione delle risorse ambientali difficili da debellare perché uno dei busines della criminalità organizzata e visto che stiamo parlando di puglisi diciamo chiaro e tondo che la prima emergenza europea mondiale è la piovra dall'imani sporche dal malaffare è contro questo cancro che tutti dobbiamo agire dovunque ci troviamo mi ripeto ci sono esempi luminosi ultimo dei quali quello di Don Pino Puglisi e sul piano ecclesiale è stata individuata da Papa Benedetto l'emergenza educativa educare però non è mai stato facile e oggi sembra diventare sempre più difficile si parla perciò di una grande emergenza educativa a tutti i livelli scriveva Cicerone omne malum nascens facile opprimitur ogni male al suo insorgere nel suo nascere si può neutralizzare meglio si può prevenire anche perché gli scontri frontali sono onerosi e dolorosi come hanno ben osservati coloro i quali hanno parlato come ha fatto poc'anzi Monsignor Pennisi di un padre Pino Puglisi uomo mite coraggioso con la corazza della fede Cristo era tutto per lui ma lo ha fatto con la mitezza evangelica così si è comportato Pino Puglisi ha cercato di neutralizzare di attirare a Cristo fanciulli giovani adulti se voi pensate che di fronte alla chiesa di San Gaetano c'è un bar c'era e c'è e il barista era il portavoce colui che informava il graviano il vedere accorrere nella chiesa di San Gaetano a tutte le ore tanta gente che non andava più dai graviano ma andava tramite Puglisi a Cristo significava togliere l'erba sotto i piedi è stato detto significava togliere il prestigio togliere il potere togliere il comando di quella zona ecco il perché ha scatenato un odio criminale nei riguardi di un inerme sacerdote quindi non un prete contro ma un prete e basta semplicemente prete fu ucciso dai mafiosi ripeto non in odio alla sua trincea contro di loro bensì in odio alla fede cristiana che professava attraverso il suo ministero sacerdotale e come è stato ben detto non sono stati gli ultimi anni a farlo grande basta pensare quello che avvenne a Goderano la sua prima parrocchia a Goderano incontrò due famiglie contrapposte di mafiosi ad una della quale era stato ucciso il figlio quindi immaginate l'odio che c'era in quella mamma verso l'altra mamma verso l'altra famiglia Puglisi quando andò a Goderano ma come usava fare portava con sé sempre la Bibbia o sotto l'ascella o nel cruscotto della macchina andando in famiglia leggeva sempre una pagina di Bibbia questa signora disse senta padre Puglisi se lei viene qua perché mi vuole convertire mi vuole fare perdonare che mi ha ucciso mio figlio è meglio che lei non viene più padre Puglisi risposi io non vengo perché voglio convertirla voglio leggere il Vangelo assieme a lei se me lo permette allora può venire quando vuole un giorno dinanzi alla porta di quella signora passò l'altra signora cadde si fece male la signora che tante volte aveva ascoltato Puglisi esce la rialza e si abbracciano è la forza della fede è la forza dell'amore questo era Puglisi perciò parlando della mafia estesa ovunque soltanto in termini di emergenza si corre il rischio di correre dietro quando già i delitti sono stati perpetrati allora si cerca di arginare di tamponare di lottare ma non si risolve il problema meglio fare a terra bruciata perché i semi malavitosi non attecchiscano piuttosto dobbiamo far nascere tanti uomini nuovi con una coscienza nuova ad immagine di Cristo con una fede vera spesso diciamo credenti credibili ci vuole un'altra c da soli queste due c non sono sufficienti credenti coerenti credibili il testimone è colui il quale professa ciò che crede non ha paura di difendere le idee la fede che ha in mezzo a chi è conformista perché si adegua al sentire comune è andato per la strada indicata da Cristo coerente fino in fondo quindi non solo credente non solo credibile ma credibile perché è coerente ricordatele queste tre c credenti coerenti credibili dobbiamo far nascere uomini nuovi formare coscienze più Cristo al centro della nostra vita vuol dire se Cristo è al centro della mia vita umanizzazione pigliamo tutto l'Evangelo un insieme di fatti umanissimi di Gesù anche senza storiografi o sociologi chi è nato in Sicilia ed ha ormai qualche primavera sulle spalle come me si ricorda che una trentina di anni fa proprio nella Sicilia fiorì una stagione che fu chiamata primavera palermitana ed aveva una connotazione civile politica nonostante le tante emergenze negative anche la Chiesa fu lambita da questa primavera anzi avvolta da quella stagione grazie soprattutto all'Arcivescovo di Palermo il Cardinale Salvatore Pappalardo con il culmine di questo bel fiore che è Padre Puglisi quella che fino a non molti anni prima veniva da molte definita la Chiesa del Silenzio di fronte all'emergenza criminale diventò la Chiesa che parla che interpella che invita rispetto delle leggi degli uomini e di Dio che ascolta e vede dove sta il male dove sta il bene e si sforza di formare coscienze compie con eroismo una nuova evangelizzazione un Vangelo che destituisce di senso un atteggiamento molto specifico e purtroppo diffuso nelle zone controllate da Cosa Nostra si chiama mafiosità può sfiorare tutti gesti di mafiosità ne possiamo commettere tutti compreso io mafiosità che può essere vinta che deve essere vinta solo se lo si voglia attuando come avvenne in Pino Puglisi quella che è la volontà del Signore che vuole il rispetto della dignità dell'uomo e del cittadino che vuole il rispetto delle regole delle leggi non il Dio dei mafiosi ma il Dio dei cristiani la morte di Puglisi come tutte le altre morti di uomini giusti ci invita ad essere cristiani a pieno titolo che per citare il teologo Arride Lubac non usano la fede come un anestetico che ci lascia indifferenti non ci dice nulla ma a contrario si lasciano trasformare dalla parola di Dio in attivi cooperatori dello sviluppo del mondo persone capaci di sognare un futuro diverso e di costruire un mondo nuovo guardate già nel 1946 Paul Ricerri scriveva la Chiesa oggi 1946 non combattere sia non c'è nessuno che fa guerre teologiche deve combattere l'indifferenza se questo lo diceva nel 46 oggi cosa dovremmo dire cosa ha detto Papa Francesco Lampedusa abbiamo la globalizzazione dell'indifferenza dovremmo globalizzare l'amore che muove il sole e le altre stelle allora la strategia è a secondare favorire la metamorfosi da un uomo vecchio a un uomo nuovo l'uomo nuovo è Cristo innestati in Lui possiamo fare molto ecco perché il martirio di Puglisi è stato semplicemente la conseguenza non ricercata di un'umile volontà di quotidiana fedeltà al Signore e al compito da Lui affidato anche di fronte alla prospettiva di una morte violenta inflitta da uomini dediti al male oggi quel prete ucciso vent'anni fa viene giustamente additato dalla Chiesa a tutti i fedeli ovunque vivano come un martire della fede ci tengo a dire non semplicemente per invocarlo invochiamolo ma per imitarlo voglio arrivare in cima non solo per me stesso ma per tutti i giovani per chi non ha senso nella vita per chi non crede in nulla per chi vuole amare per chi vuole vivere in semplicità e purezza voglio farcela per chi mi aspetta a casa voglio farlo perché credo nel Signore per chi ama a Don Puglisi si si addice molto bene un pensiero di Albert Camus ho capito che non era sufficiente denunciare l'ingiustizia fare l'antimafia a parole bisognava dare la vita per combatterla e lui l'ha data facile il mestiere del riformatore è uno che pensa le cose da cambiare siano sempre fuori negli altri nella società nelle leggi e mai dentro l'uomo dentro se stesso è da noi che dobbiamo partire non è facile si intende ma bisogna fare così questo vuole Gesù questo ha fatto Puglisi il compendio della dottrina sociale della Chiesa sprona a riesaminare il Vangelo proprio laddove via l'emergenza maggiore la verità stessa dell'essere uomo vagaggiando l'utopia baconiana di comandare la natura nella prasse resta il pericolo non tanto di non far emergere la forma umana dalle forme primordiali e inferiori quanto di farla regredire fino ad un vuoto strumentalismo la cui logica dell'eterno ritorno fonda un sapere troppo tecnicistico per far nascere i fiori della speranza la nuova evangelizzazio adi cristianam fidem tradendam come è stato detto nel sinodo del 2012 questa nuova evangelizzazione nella trasmissione della fede sta nel fare ridiventare ordinaria la fede cristiana anzi la luce delle luci quella che illumina il nostro cammino in tutti i momenti della vita in noi e in tutti i nostri territori è il cuore dell'enciclica di papa francesco sia poche è concesso il martirio di sangue tutti però devono essere pronti a confessare cristo davanti agli uomini e a seguirlo sulla via della croce durante le persecuzioni che non mancano mai nella chiesa concludo carissimi amici la ricchezza di una vita data per il Vangelo è ancora capace di farci trasalire di impegnarci per una seguela a Cristo più leale e gioiosa dico di sì grazie 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 Monsignor Bertolone concludiamo guardando insieme alcune immagini di un documentario che Su'Eccellenza Bertolone ha redatto insieme ai suoi collaboratori è solo un pezzo finale dopo l'assassinio di Dompino il giorno dei suoi funerali dall'eremo della Verna si leva forte il grido di dolore di Giovanni Paolo II è il 17 settembre del 1993 in questo luogo di pace e di preghiera non posso non esprimere il dolore con quale ho appreso ieri mattina la notizia dell'uccisione di un sacerdote di Palermo Don Giuseppe Pulisi e levo la mia voce per deplorare che un sacerdote impegnato nell'annunciare il Vangelo e nell'aiutare i fratelli a vivere onestamente ad amare Dio e il prossimo sia stato barbaramente eliminato individuo i responsabili di questo delitto a ravvedersi e da convertirsi che il sangue innocente di questo sacerdote porti pace nella cara Sicilia con i fatti con il martirio ha fatto della sua esistenza un capolavoro di fede e di dignità umano un monumento alla libertà e di dignità umano di un'anima I woke and you were there Beside me in the night You touched me, you caught my feet And I must lie, to lie I woke and saw you there Beside me as before My heart left to find you near To fill you close once more To fill your love once more To fill you close once more To fill you close once more To fill you close once more Your strength has made me Dio ha detto una volta Non uccidere Non può uomo Qualsiasi Qualsiasi Umana Agglomerazione Mafia Non può Cambiare E calpestare Questo Diritto Santissimo Di Dio Questo popolo Popolo Siciliano Talmente Attaccato Alla vita Popolo Che ama La vita Che dà la vita Non può Non può vivere Sempre sotto la pressione Di una civiltà contraria Civiltà della morte Qui ci vuole Civiltà della vita Nel nome di questo Cristo Crecifisso E risorto Di questo Cristo Che è vita Via Verità E vita Lo dico ai responsabili Lo dico ai responsabili Convertitevi Una volta Verrà il giudizio di Dio Grazie Grazie